Avevo definito la von der Leyen 2 una sciagura per tutti noi, per l'Europa, e devo dire che le vicende della nuova Commissione confermano quelle che erano le mie prime valutazioni. La Commissione, infatti, si sta rivelando un disastro. Io ho avuto modo di parlare con alcuni commissari, ho parlato con la commissaria Schuica al Mediterraneo, la quale non sa come rilanciare i porti del Mediterraneo e non conosce la problematica dei biocombustibili che sono molto più adatti al bacino del Mediterraneo piuttosto che i combustibili sintetici che invece rilanceranno molto i porti del nord Europa. Poi ho parlato con la commissaria all'ambiente Roswell, anche lei si è definita una implementatrice, senza riconoscere tutti gli errori che sono stati fatti nell'ambito ambientale nel quinquennio precedente. Anche lei continua su una strada che è già stata tracciata. Poi ho parlato con il commissario designato alla difesa, Kubilius. Mi ha un po' stupito perché non conosce l'importanza di funzioni specifiche come quella di comando, controllo, comunicazione, intelligence e l'impossibilità di realizzare operazioni militari senza avere queste funzioni ben implementate all'interno della struttura. Ha definito il suo compito solo quello di un produttore di munizioni. Mi sembra molto limitante per il prossimo commissario alla difesa. E in ultimo ho parlato con l'alto rappresentante designato, la signora Callas, la quale mi ha stupito ancora di più, perché non ha riconosciuto i due fattori principali della scarsa crescita e della scarsa produttività dell'Europa, che sono il fatto di aver perso il più grande fornitore di energia, che era la Russia. Non ha saputo rispondere a queste domande e ha detto solamente che l'Ucraina prima o poi vincerà, però questa guerra deve finire se vogliamo riprendere la produttività, se vogliamo far ripartire l'economia. Poi la stessa Callas ha fatto delle dichiarazioni assurde. Ha detto che la Nato è una alleanza militare, disconoscendo invece l'aspetto politico che è principale. E poi ha detto che in una sorta di architettura della difesa del futuro, lei vede la Nato pianificare e condurre le operazioni, e l'Unione Europea invece produrre le munizioni. Questa è la sua idea di difesa europea del futuro, quindi ci dovremmo totalmente assoggettare a quelli che sono gli Stati Uniti, il Canada e anche la Gran Bretagna, che non fa parte dell'Unione Europea, e anche di concerto l'Australia e la Nuova Zelanda. Quindi saremmo ancora sottoposti a quelli che sono stati definiti i Five Eyes, che con Echelon, sino a qualche anno fa, ci spiavano e rubavano i nostri segreti. Quindi questa è l'idea della Cannas per una difesa europea, che deve essere invece assoggettata al mondo anglosassone.